buongiorno allora in caso di emergenza andare a inserire un cacciavite a taglio nell'apposito rubinettino manuale e ruotando di 90 gradi si apre questo rubinetto che normalmente si aprirebbe in automatico con l'elettrovalvola sul comando dell'elettrovalvola quindi girate di 90 gradi aprite il rubinetto e poi l'ho riposizionato come l'avete trovato cioè così e poi fate di nuovo ripartire la caldaia perché succede che magari si blocca per un lungo tempo rimane bloccata da calcare allora se intervenite in questa maniera con questo cacciavite potete risolvere il problema ciao a tutti ciao 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 But I'm not a pilot, can't deny it There's some days I feel idiotic